Di nuovo insieme, bentrovati, le notizie di oggi, mercoledì 11 di febbraio. Furto al bar della Proloco di Ripe di Trecastelli, dove la banda delle slot ha agito in pochi istanti. A riprenderli è stata la telecamera di sorveglianza circuito chiuso all'interno del locale. Una volta entrati, i ladri hanno portato via 4 slot machine e i soldi in cassa per un bottino pari a circa 4.000 euro. Le immagini mostrano tre persone con il volto coperto, ma probabilmente un quarto aspettava nel furgone sicuramente rubato, dove hanno caricato le slot machine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. I risultati dell'incontro del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. La vediamo. Riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica a Senigallia, Palazzo Comunale. Un incontro dove si è fatto il punto sulla criminalità nella provincia e in particolare sulla città. Abbiamo oggi questa seduta di comitato organizzata nella città di Senigallia, valutato e analizzato tutte le questioni aperte sul territorio, dal problema dei furti, dal problema dell'immigrazione, del problema del parcheggio abusivo, del commercio abusivo, della prostituzione. Tutto quanto è nell'agenda delle criticità che sono conosciute a livello di autorità provinciali e sono state rimarcate dal sindaco di questa città. Nel corso di questo incontro non solo si è dato atto dei buoni risultati raggiunti nello scorso anno, che è partato ad esempio nella constatazione che sono diminuiti del 10% i furti in questa città. Si è preso atto del livello collaborativo da parte delle forze dell'ordine e dello Stato tra loro e tra le forze dello Stato e le risorse della comunità locale. Di questo si è preso atto con soddisfazione, ma evidentemente anche sulla base di alcuni strumenti battizi che sono stati siglati negli scorsi anni si è data ulteriore implementazione dell'azione che sarà svolta nel prossimo futuro. Nel corso di questo incontro ovviamente si è anche parlato della prossima stagione estiva ed è ciò che dovrà essere concretizzato sia in termini di amministrazione attiva che in termini di attività di pulizia, di prevenzione in quel periodo. I cittadini di Senegaglia che hanno subito danni al patrimonio edilizio o all'attività produttiva in conseguenza del maltempo che ha interessato la Regione Marche il 6 febbraio scorso possono segnalarli al Comune entro le ore 14 di sabato 14 febbraio. Tale segnalazione deve essere fatta compilando le schede predisposte sul sito internet del Comune www.comune.senegaglia.an.it Il Comune di Senegaglia aderisce alla giornata di Millumino di meno 2015, la campagna di comunicazione ideata da Caterpillar per sensibilizzare istituzioni, aziende e cittadini sulle tematiche del risparmio energetico. Nel momento clou della manifestazione che si svolgerà il 13 di febbraio, anniversario della firma del protocollo di Chioto, sarà spento il simbolo della città alla rotonda mare e dei due lungomari. Contestualmente sarà organizzato un evento di lettura della Volta Celeste. Alla Biblioteca Comunale Antonelliana le 7 L di Libro. Il servizio. Aperte le prenotazioni alla Biblioteca Comunale Antonelliana di Senegaglia del nuovo ciclo di laboratori per ragazzi dal titolo Le 7 L di Libro. È dedicata soprattutto ai ragazzi, per intenderci, delle scuole elementari, quindi dai 6 anni ai 6-10 anni. È un'offerta della Biblioteca che si affianca, che integra in qualche modo quello che è l'offerta per i bambini, per i ragazzi, perché già ci sono diverse attività che riguardano soprattutto i bambini quelli più piccoli, cioè dai 2-3 anni fino ai 5 anni, quindi nell'età prescolare, che riguarda soprattutto il progetto Nati per Leggere. Quindi con questa seconda, diciamo, iniziativa, durante il corso dell'anno la Biblioteca vuole in qualche modo intercettare l'interesse dei bambini per ovviamente indirizzarli verso la lettura, che è questo lo scopo diciamo principale che ci muove quando organizziamo queste iniziative. Ovviamente l'indirizzo, l'incentivo alla lettura, noi vogliamo per i ragazzi, vogliamo che sia una cosa piacevole, che i ragazzi abbiano piacere di venire in biblioteca e di sfogliare, di leggere i libri, magari anche con i loro genitori, perché questo è un compito specifico della biblioteca e abbiamo piacere che questo avvenga in un contesto, ripeto, ludico, piacevole, che si serve anche di laboratori, quindi anche di strumenti di attività pratica in cui i ragazzi possono partecipare e possono avvicinarsi in questo modo, in maniera, ripeto, piacevole ai libri. Il Museo delle Arti Monastiche di Serra dei Conti è certamente uno dei gioielli dell'entroterra marchigiano, attraverso il quale si raccontano al visitatore oltre cinque secoli di vita monastica, sia per l'aspetto più propriamente spirituale che per la vita quotidiana. Dal mese di febbraio l'amministrazione comunale ha affidato la direzione del museo alla professoressa Morena Torreggiani, 47 anni, docente di filosofia, che ha collaborato alla fondazione del museo come assessore alla cultura nel comune. Anche per oggi è tutto, il nostro Tg termina qui, l'appuntamento è per domani.